Non esistono donne brutte, esistono solo donne pigre. Ho dato un escursus su come l'antichi egizi, il medioevo, il rinascimento, fino ai nostri giorni ha voluto interpretare tutto l'aspetto cosmetologico del nostro viver comune per rendere più presentabili, più facilmente osservabili le donne, perché non anche gli uomini. Ho voluto rappresentare l'utilizzo di alcune sostanze che da tanto tempo vengono prese in considerazione dal punto di vista cosmetologico come tante piante, come derivate dai fiori, che anche oggi la nostra cosmetologia e il nostro modo di essere più vicino alla natura ci fa utilizzare per la cura del nostro corpo. Oggi noi abbiamo a disposizione delle sostanze molto attive dal punto di vista cosmetologico che hanno un substrato vero, scientificamente riconosciuto per la presenza, ad esempio, degli oli essenziali, di acido ialuronico naturale, di sostanze che derivano dalle piante che sono attive dal punto di vista cosmetologico.